E siamo noi a far ricca la terra e noi piantiamo il mais su tutto l'alto piano. Cosa sta succedendo ai piccoli? I piccoli sono in difficoltà, la dimensione piccola è certamente uno degli elementi che costringe queste imprese anche in tempi brevi, medio brevi, alla chiusura. Oppure li spinge, e non può che essere così, alle forme di aggregazione. Piccolo, come diciamo noi, è bello ma è in difficoltà. Grande, come dico spesso senza enfasi, ma grande è necessario perché oggi sono i mercati che sono grandi. Non esiste soltanto il mercato mantovano o il mercato lombardo, ma ormai parliamo di mercati internazionali, europei e mondiali e su questi mercati si può vendere solo se si è grandi, cioè ben strutturati. Per essere ben strutturati bisogna essere grandi, cioè avere grandi quantità di prodotti da vendere. Grande è necessario, almeno così la pensa l'assessore Castelli. Panarelli, lei avrà tra i suoi associati anche dei piccoli imprenditori. Come se la stanno cavando in questi momenti? In questi momenti difficili stanno tribulando e non poco, stanno tribulando anche i grandi perché per affrontare il mercato servono politiche ben precise, politiche di sostegno al mercato che riescono a raggruppare più di un'azienda o gruppi in modo di far sì di avere una forza di penetrazione sui mercati economica perché servono parecchi soldi e quindi se uno è piccolo non riuscirà mai ad affrontarlo e quindi o in forma consorziata o in forma cooperativa c'è bisogno di questo raggruppamento altrimenti se noi dobbiamo esportare perché i nostri consumi interni sono in diminuzione e invece i consumi verso l'esterno sono in aumento e quindi se dobbiamo proporre le nostre produzioni dobbiamo fare dei gruppi e raggrupparci. Questo credo che sia necessario. Zanni c'è solo quindi questa strategia, l'unione fa la forza o è possibile anche voi avete ad esempio con Campagna Amica avete portato avanti l'idea del contatto diretto con il consumatore? Certo, anche questo sicuramente aiuta e anche questo tipo di commercializzazione qua, quello delle vendite dirette, insomma arrivare direttamente al consumatore in questi ultimi periodi qua sta veramente dando soddisfazione avendo un aumento in percentuale proprio di questo tipo di vendita. Credo che proprio questo diversificare, questo andarci a ritagliare spazi dentro nella filiera che fino ad oggi appartenevano ad altri sia sicuramente anche questo una maniera positiva e concreta per contrastare diciamo così questa globalità dei mercati alla quale però non corrisponde magari una politica altrettanto globale di regole dentro questi mercati qua dove poi ci pone noi veramente alla merced di situazioni che non riusciamo in qualche maniera a governare. Però diversificare è sufficiente dal punto di vista del reddito di queste imprese? Diversificare è sufficiente, sicuramente aiuta a far sì che sotto l'aspetto del reddito per queste aziende qua la cosa sia da vedere e sia veramente in maniera positiva. Chi attua questo tipo qua di commercializzazione ad oggi in senso generale ne è veramente soddisfatto. Confagricoltura come la pensa? Noi pur non negando diciamo l'interesse per alcune tipologie aziendali e alcuni produttori per questo tipo di attività che certamente può essere un'attività che dà soddisfazione nel senso che comunque c'è contatto diretto con il consumatore e anche dal punto di vista reddituale però ovviamente su alcuni mercati, su alcune tipologie di mercato può dare qualche soddisfazione, riteniamo che per una situazione, per una provincia come quella mantovana dove ci sono un milione e trecentomila suini, dove c'è la produzione di un milione e mezzo di forme tra parmigiano reggiano e grana padano, pensare di parlare solo o quasi esclusivamente di mercati locali credo che sia una cosa un po' fuori dal tempo, nel senso che oggi noi effettivamente abbiamo un'esigenza e già lo stiamo facendo, tant'è vero che se qualcuno dice nell'analisi siamo un po' usciti anche dalla crisi proprio su questi prodotti è perché l'aumento dell'export ci ha dato una mano, quindi credo che questo percorso di continuare ad aumentare la percentuale di prodotto esportato per le produzioni nostre tipiche credo che sia lo strumento maggiore per poter dare un po' una reddittività alle aziende, tra l'altro anche questo discorso delle riconoscibilità credo che proprio il fatto di produrre nella nostra provincia i due DOP principali dei formaggi e poi la materia prima per le DOP dei prosciutti sia la risposta migliore che possiamo dare anche sul discorso dell'etichettatura perché poi effettivamente quando si fa una DOP tutta la filiera è tracciata completamente, quindi comunque la strada è l'aumento dei mercati soprattutto di quelli al di fuori del mercato nazionale che peraltro in questi ultimi anni non ha dato segni di grandi risvegli. Un esempio di vendita diretta l'hanno sperimentata anche alcuni allevatori attraverso la vendita di latte crudo che però è stato un esempio a quanto pare sfortunato. Cos'è successo a Mantua? So che ci sono state anche delle campagne di stampa che un po' l'hanno penalizzato. No, non credo che sia un esempio sfortunato, nel senso che anche qui entriamo nell'ambito delle iniziative che hanno una valenza per l'azienda che lo fa, è chiaro che non possiamo pensare che questa sia la soluzione del settore, però penso che sia importante che ci sia questo contatto diretto, questo contatto diretto fra il produttore e la vendita quasi a casa di questo latte è un importante anche ricordo di quello che era il patrimonio dei nostri nonni soprattutto in ambito del latte portato a casa. Io penso che sia importante mantenere aperto il dialogo con il consumatore perché è lui che ci deve dire cosa dobbiamo produrre noi perché il mondo della produzione deve essere sempre molto attento alle nuove tendenze di consumo, a quello che sono le dinamiche e anche a quello che sono gli stili di vita, dunque è sempre il minor tempo da parte dei nostri consumatori. Io penso che quello sia il nostro mercato, stare molto attento alle esigenze del consumatore e dunque la filiera corta ha un'importanza secondo me grande. Quindi vi aiuta anche dal punto di vista del marketing? Certo, perché questo è il latte, il latte è un qualcosa di vivo, dunque se riusciamo a farlo consumare al consumatore o alle famiglie nell'ambito di uno o due giorni o tre giorni, questo riafferma questo vincolo e questo bisogno di comprare dalle aziende agricole. Gianni? Sì, in buona sostanza secondo me quello che voleva dire il Presidente Gandolfi è proprio questo e anche noi come federazione col diretti sappiamo benissimo anche noi che non tutto il nostro grana padano lo possiamo avere o parmigiano attraverso i mercati di Campagna Amica per carità, però questi veramente devono e sono strumenti di comunicazione, comunicazione al consumatore ai cittadini a far sì che comunque sia preferiscono in senso generale, possono preferire e scegliere il prodotto vicino a casa perché comunque sotto l'aspetto della salubrità, sotto l'aspetto della qualità sicuramente ha un valore aggiunto in più che anche nel grandi numeri che noi adesso stiamo cercando attraverso i consorzi agrari d'Italia così di porvi in qualche maniera un rimedio ma sicuramente insomma questo preferire il prodotto tic vicino a casa è sicuramente positivo ed è un rispondere ai bisogni da una parte del consumatore e dall'altra di noi produttori. Tra i problemi soprattutto dei piccoli c'è anche quello dello spargimento dei liquami ma ne parliamo dopo la pubblicità.